Siamo con mister Billone Monti, mister in carriera non avevi mai subito un 6 a 0, difficile da digerire, probabilmente serve una vittoria domani. No, molto difficile da digerire, il 6 a 0 e quattro partite abbiamo preso 12 gol che sono troppi e quindi neanche questo mi è mai successo. Evidentemente può darsi che il nostro lavorare sotto aspetti tattici debba essere intensificato, bisogna secondo me andare anche nei minimi dettagli, incominciando di nuovo dall'ABC perché facciamo degli errori non imputabili a un singolo elemento, ma a più persone, quindi per ridurli secondo me bisogna lavorare molto. Indipendentemente da questo, non è che se avessimo perso con minor scarto o avessimo vinto o pareggiato dovevamo per forza andare più tranquilli col Volla. Ogni partita deve essere affrontata con la massima concentrazione, perché, lo ripeto, questo è un campionato difficilissimo, dove ci sono buoni valori da parte di tante squadre e quindi va combattuta partita su partita e non bisogna né saltarsi quando le cose possono andare bene né abbattersi quando le cose possono andare male. Mister Volla che avete già affrontato in Coppa e che poi affronterete di nuovo nella gara di ritorno. In effetti le ultime notizie parlano di una società con qualche problema, si è dimesso l'allenatore, se questo ti tocca particolarmente o se immagino tu hai continuato a lavorare pensando alla tua squadra? No, sicuramente pensiamo ai nostri problemi, però il Volla nella partita di Coppa Italia, un po' come abbiamo fatto noi, ha fatto giocare un po' di gente che giocava meno. Quindi sicuramente domani avranno una formazione diversa da quella di Coppa. Per quanto riguarda il tuo Barano, ovviamente non ci sarà Del Franco che è squalificato, non ci sarà sicuramente Palmiro, così come Savio se non erro. Qual è la situazione? Se sei anche un po' preoccupato da questa mini emergenza, perché comunque sono giocatori importanti? Ma preoccupato lo si è sempre, non solo per questi calciatori che adesso mancano, ma anche quando mancano altri. Savio non ci sarà, Palmiro verrà in panchina sperando che sia solo per fare numero e Vincenzo sarà della partita.